Gole Ada del Solufra contro la Bisaccese. Nel primo tempo due gol di Di Benedetto e due di Rapolo per il 4-0 all'intervallo. Nella ripresa il 4-1 di Torsiello, poi un gol di Rapolo ancora e un altro di Di Benedetto, quindi tripletta per entrambi i calciatori. Il settimo gol è stato un'autorete di valori. Vediamo i gol e le interviste. Per Lettieri. Palla al centro verso Di Benedetto. Il colpo di testa e la rete del vantaggio, Antonio Di Benedetto. Gran colpo di testa per il gol dell'1-0. Palla al centro. Palla direttamente in rete per la rete del 2-0 di Rapolo. Raddoppio del Solufra. Solazzo Gaetano. Poi Lettieri in aria, mette al centro. Colpo di testa! Il gol ancora di Nicorapolo. La doppietta del numero 7. Di Benedetto contro Solazzo. Va di Benedetto. Rete ed è 4-0. Qui a Montoro. Tra Solufra e Bisaccese ha segnato Di Benedetto sul calcio di rigore. Fisca l'abitro. Parte Torsiello. Rete. Segna la bisaccese con Torsiello che ha angolato bene. Ha trovato il gol dell'1-4. Ancora Penna. Avanza. Alza per Di Benedetto. Il pallone che passa. Di Benedetto aggancia. Prova a passare ancora Di Benedetto in aria. Di Benedetto prova a calciare il tiro a rete. Antonio Di Benedetto. Tripletta del bomber di Siano. Roberto Dello Russo. Adesso lancia in profondità. Rapolo sulla sinistra. Andare ancora al numero 7. Rapolo. Il tiro di Rapolo. La tripletta di Rapolo con un euro goal. Domenico esposto. Palla destro per Rapolo. Cerca in mezzo penna. Non colpisce di testa. Autorete clamoroso di valori. Mister Fiume. Grande goleata. 7 gol. Come nella prima uscita stagionale contro il Montoro. Rapolo è tornato alla grande. Dall'infortunio. Con una bella tripletta. E anche protagonista Di Benedetto con un'altra tripletta. Sì. Oltre a Rapolo e Di Benedetto. Tutto il gruppo. Tutta la squadra oggi ha fatto bene. Ha fatto davvero bene. Abbiamo avuto un buon approccio alla gara. Cosa che nell'ultima partita era un po' mancata. D'eccezione di domenica scorsa. Oggi bene bene. E poi voglio dire Rapolo e Di Benedetto. Conosciamo le loro qualità. Diciamo io mi aspetto questo tipo di partita da parte loro. Perché sono elementi importanti per noi. Bravi Rapolo e Di Benedetto. Ma bravi tutti. Solo fra che possiamo dire inizia a far paura. Vabbè. Un solo fra. Io come ti dicevo già nelle passate interviste. Conosce la sua strada. Sa dove può arrivare. Ma per raggiungere i risultati. Non bastano 3-4 vittorie. Ma bisogna dare continuità. È quella che noi stiamo dando. Partita per partita. E dobbiamo continuare così. Adesso quello che ci rimane nel mese di novembre. C'è una lunga trasferta a Castelpoto sabato prossimo. E poi si chiuderà con le big match con la Bellinum. Sì. Ci aspettano due gare. Ma noi pensiamo gara per gara. Il Castelpoto per me vale la Bellinum. Come la Bisaccese valeva il Castelpoto. Tutte le gare sono complicate. Se noi abbiamo il giusto approccio. Con le qualità che abbiamo in squadra. Penso che comunque ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. E alla fine dell'anno potremo fare una valutazione giusta. Su quello che è stato il nostro cammino. Grazie. Nico Rapolo. Dopo l'infortunio. Prima da titolare. Tripletta grandiosa. Raccontaci come sei riuscito a fare. Gol da calcio d'angolo. E come hai fatto quell'Eurogoal. Il gol da calcio d'angolo. Avevo visto che il portiere stava un po' fuori dai pali. Detto calcio forte verso la porta. Pure per fortuna è andato bene. Poi diciamo il terzo gol. Quella è una giocata che faccio sempre. Mi accentro. Visto che gioco a piede inverso. E calcio forte sul secondo palo. Anche in questo caso la fortuna è stata dalla mia parte. Quindi abbiamo anche un ottimo riparto offensivo. Perché oltre alla tua tripla c'è stato quello di Benedetto. Ho detto ieri che ha fornito alcuni assist quest'oggi. E quindi è un Solofra che va veramente bene. Sì. Diciamo che il nostro attacco è un mix completo. Perché abbiamo esperienza. Abbiamo gioventù. Abbiamo corso. Abbiamo voglia. E quindi poi alla fine tutti noi compensiamo quello che poi è l'attacco del Solofra. Diciamo che siamo anche molto uniti. Non pensiamo assolutamente all'individualismo. E quindi ci aiutiamo uno con l'altro. E questo poi alla fine porta sempre ai grandi risultati. Il gruppo. Nel grande calcio c'è CR7. Noi abbiamo NR7. Ebbè questo è un nome che già da parecchio mi hanno dato. Visto il ruolo e visto che ho sempre giocato con il numero 7. Però noi ci divertiamo. Qui il calcio è quello ad alti livelli di CR7. A me divertimento. Grazie Nico. Grazie a te.